Mi vien da piangere perché l'estate è finita, purtroppo sì, è finita, però ancora ti rimangono quelle vogliette Allora quindi passi davanti al banco della frutta e che cosa vedi, ta, il frigidello, eccolo qui, bello però, ti puoi mettere a frigge, perché queste cose si fanno in padella con tanto olio, fritti Oggi li facciamo al forno, vi do una piccola tritta, adesso li metto tutti quanti qua dentro, li lascio qua dentro, faccio così, olio il buon Agostino San Marino, che fa quest'olio fantastico, li ungo bene bene Così, poi che fai? Non ci metti un profumino di qualcosa? E vedi un po', certo che sì, ora quindi, vado così spicchietto d'aglio, un po' ovunque, intero La musetta è quella giusta Così, non friggiamo, usiamo soltanto il forno, ha una bella temperatura Adesso vi dico anche quanto, qua Poi, un po' di sale, non ce lo mettiamo, ma certo che sì, zac 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 zac, vai Vado pure a pro-ritmo, allora poi, peperoncino Vado così, mi piace, mi piace, a me mi piace, davvero mi piace non ce lo mettete Io vado così, zac 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 Guarda che sono belli Che colori, che spettacolo E così Abbiamo un ultimo ricordo della nostra splendida estate Quanto? 220 gradi Come? Grill, io ho messo grill e ventola Va bene? A posto? Dai eh E vai Sono passati 20 minuti Ed ecco il risultato Con questa splendida colonna sonora Ci facciamo sta mangiata dei friggitelli Guardate quale spettacolo Prendo Adesso qualcuno di voi chiederà Vabbè le assaggi uno per cortesia Adesso assaggio Sono bollenti Deve dare almeno circa Qualche minutino per farli affreddare Guardate che meraviglia Belli Pure lo spicchio taglio mi piace Guardate Che figo Ci aggiungo un altro pochino di sale Poco poco Buono Perfetto Vi devo dire Differenza col fritto Quasi niente Quasi niente È perfetta Provateci Ci vuole poco Che ci vuole? Quindi forno solamente senza friggere Buonissimi Mazzano Buoni Sono venuti bene Teneri di eriso Mmm Mmm Mazzano Mazzano Mazzano